Ciao ragazzi, siamo Michele ed Elisa e siamo qui in Africa, dove precisamente? Precisamente in Tanzania, nel cratere di Ngorongoro. Ragazzi, è qualcosa di unico, spettacolare, siamo nella natura da tre giorni e stiamo vedendo tutti gli animali dello scivile. Michele e lo sfondo. Cioè, quali animali abbiamo visto? Leopardo, biepardo, zebra, giraffa, gnu, elefante, leone, leone e leonessa. Cerco pitechi, ippopotami, fenicotteri, giraffe, fenicotteri. Ragazzi, per tutto questo grazie a Venture e Bravo Safari. Consigliatissimo, consigliatissimo, consigliatissimo. Ciao ragazzi.